Ed ho finito appena adesso la terza stagione di Gomorra, la serie. Allora, ci ho messo tanto, ci ho messo troppo, ci ho messo veramente troppo. Perché ci ho messo troppo? Perché, cavolo, la terza stagione di Gomorra da noi è uscita nel 2017 e io l'ho finita il 3 maggio 2020. Troppo, 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 mentre vi parlo è già andato anche la quarta tornata di Gomorra nel 2019 ed è uscito anche il film L'Immortale, in realtà un film spin-off della serie. Che, dopo aver visto il finale di questa terza stagione, onestamente mi incuriosisce ancora più forse di vedere questa quarta stagione, che spero di vedere in tempi più brevi rispetto a quanto ci ho messo a vedere la terza e che mi incuriosisce assolutamente, mi incuriosisce assolutamente e non vedo l'ora di vederla. Non vedo l'ora di vederla, la quarta stagione, non vedo l'ora di vedere il film dell'Immortale perché è andata bene, è andata molto bene. Secondo me, malgrado ci abbia messo non pochissimo a vedere questa terza stagione credo che questa terza tornata nel mondo di Gomorra mi sia piaciuta ancora di più di quanto già aveva fatto la seconda stagione che in realtà forse ho preferito alla prima, per certi versi. Com'è andata? È andata molto bene, come ho detto. è cominciata fondamentalmente con il nascondiglio di Ciro che si è macchiato, fra virgolette, della colpa di essere stato l'uccisore sotto il consiglio del buongenni, traditore, che ha tradito di fatto la sua famiglia. Che cosa ha fatto fondamentalmente? Ha sacrificato il padre di Pietro Salastano che muore nella fine della scorsa stagione e adesso abbiamo questo Ciro che di fatto scappa. Scappa e va altrove. Va altrove ma alla fine tornerà nella sua amata e odiata Napoli una volta che sarà necessario ritornare nel mondo del crimine fondamentalmente. Il sistema non ti lascia mai in qualche modo e se non hai il sistema a chiamarti sei tu a sentirti chiamato probabilmente. Mamma mia che metafore. Cosa è successo in questa stagione? Abbiamo visto alla fine della scorsa un geni che in realtà apparentemente sembrava, almeno per come l'avevo interpretato io il finale della scorsa stagione, aveva deciso di consegnare il padre Pietro a Ciro, che militava vendetta per la morte della figlia, per terminare questo circolo vizioso, per togliersi da tutto in realtà. In realtà probabilmente no, probabilmente la morte di Pietro Salastano e di fatto aver contribuito alla morte del padre è stato per Jenny non un passo verso l'essere lontano dal sistema, ma forse per prenderne il posto, forse l'ambizione di Jenny in realtà non si è limitata all'avere una famiglia e una tranquillità familiare, forse in realtà Jenny comunque ha sempre voluto essere re. E si è visto, si è visto in questa stagione, si è visto in questa stagione e si è visto un Jenny piegato nel momento in cui il padre di Azzurra, la moglie, compagna, non mi ricordo onestamente, Giuseppe, l'ha piegato, l'ha piegato malamente fondamentalmente, perché Jenny ha cercato di fatto di fregarlo, di ottenere cose che non erano sue, ma che erano appunto del padre di Azzurra, ed è rimasto piegato, sconfitto da quest'uomo che per quanto mi riguarda ho trovato un cattivo per certi versi addirittura superiore a quello che fu Pietro. Mi è piaciuto tantissimo, mi è piaciuto tantissimo il cattivo Giuseppe, interpretato da Gianfranco Gallo. Mi è piaciuto tanto e mi è dispiaciuto che questo cattivo così granitico sia stato in realtà piegato abbastanza velocemente. Alla fine, in qualche modo, il personaggio è rimasto schiacciato nel momento in cui la strana coppia, la coppia degli inizi di Gomorra, si è riformata, ovvero nel momento in cui la coppia Pietro e Jenny è tornata ad essere quello che era, l'uno e il fratello dell'altro. Ed è a quel punto che è cominciata di nuovo l'escalation, è cominciato il ritorno al potere, il ritorno al potere di Jenny, che si credeva forse invincibile e in ascese, invece ha dovuto ricostruire alla fine il suo potere. Alla fine è riuscito in questa cosa, e a parte appunto i momenti di difficoltà è riuscito a riottenere quello che aveva anche di più. Al termine però di una sequela di patti e contropatti, di tradimenti, di omicidi, di vittime sacrificali, di sparatorie, di inseguimenti e di sistemi intrecciatissimi, chi più ne ha più ne metta, alla fine c'è stato però il momento in cui il nuovo partner, la nuova pedina della scacchiera, fondamentalmente, Sangue Blu, che è un personaggio che ho apprezzato, Enzo Sangue Blu Villa, interpretato da Arturo Muselli, che arriva a fine produzione fondamentalmente con un occhio in meno, forse non mi è chiaro a sta cosa, ma vabbè, un po' trash ma apprezzo come cosa. E cosa è successo fondamentalmente? Alla fine i mille sotterfugi di Jenny per ottenere quello che voleva hanno portato alla morte della sorella di questo Sangue Blu, che è uno dei, diciamo, di quelli alla tavola rotonda finale, in cui c'è stata la spartizione definitiva della città, se così vogliamo dire, ma al termine è stato rivelato che dietro alla morte della sorella, in realtà, che è stato forse anche un po' un grosso motore, oltre che una rivalsa di vecchia data, per motivi di vecchia data, è stato un grosso motore alla morte della sorella per la vendetta di questo personaggio, per il tentativo di vendetta di questo personaggio contro il sistema. Alla fine questo Sangue Blu, consigliato o mal consigliato, più o meno, gli è stato rivelato che in realtà dietro alla morte della sorella ci sia in realtà una orchestrazione di Jenny. A quel punto però il di fatto eroe ormai di questa storia, perché è fra l'altro il personaggio che si è trasformato di più nel corso della storia di Gomorra, perché è passato dall'essere il fratello ad essere il mentore, poi dopo il mentore è stato il nemico, infine dopo il nemico è stato l'antieroe e alla fine l'eroe, porca miseria, questo Ciro l'immortale alla fine per salvare l'unica persona che gli è rimasta davvero, ovvero Jenny, decide di prendersi la colpa. E alla fine Jenny in uno dei suoi momenti di difficoltà che sono bellissimi secondo me perché mostrano un salvatore esposito assolutamente in parte capace di fare un'ottima interpretazione di questo colosso bloccato, completamente incapace in realtà di sfogare se non in parte con la violenza e con gli sbuffi e con gli sguardi inferociti la propria frustrazione interna questo colosso è stato costretto a piantare una pallottola nel petto di Ciro che viene dato poi in pasto alle onde. Che finale? Che finale che in realtà devo ammetterlo, lo sapevo. O meglio, non lo sapevo, però avevo fiutato qualcosa e avevo letto qualche cosa. Purtroppo il gap temporale così ampio fra quando è stata la messa in onda del terzo stagione di Gomorra e il momento della mia visione mi ha portato a sapere perfettamente che ci sarebbe stato a un certo punto una condizione tale per cui Ciro sarebbe finito a mollo. Ma chissà che cosa nascondono quelle onde se nascondono qualcosa magari no, magari non nascondono assolutamente nulla e il film dell'immortale sarà qualcosa di diverso da quello che mi posso aspettare. Però personalmente spero di no in realtà anche se in realtà Gomorra non è così fantastica come storia e mi domando come sia possibile in realtà questa cosa anche se forse questa storia in realtà ci ha mostrato questa stagione ci ha mostrato come è possibile che certe cose siano impossibili e possibili in Gomorra 3 e in generale nel mondo di Gomorra. Comunque tutti bravissimi che ve lo dico a fare tutte interpretazioni assolutamente magistrali Salvatore Esposito come ho detto si riconferma un grandissimo Jenny soprattutto nei momenti di furia ma soprattutto nei momenti di difficoltà ho apprezzato tantissimi momenti di difficoltà quando è lontano dalla famiglia ed è disperato per questa cosa disperato e furioso e Jenny è sempre furioso nei momenti in cui è disperato ho apprezzato il piegato distrutto Ciro l'immortale interpretato da Marco d'amore che ho trovato assolutamente all'inizio ridicolo e poi appassionante nelle mille evoluzioni che ha avuto il suo personaggio in realtà mi sono piaciute tutte fondamentalmente perché mi è piaciuta Patrizia tantissimo Patrizia grande Patrizia che ha fregato tutti ha fregato tutti mille e una volta fondamentalmente un po' inspiegabile in realtà la sua pressoché totale assenza alla fine della stagione fondamentalmente anche se in realtà ha fatto un passo molto avanti Patrizia perché dopo essere stata la doppio giochista triplo giochista quadruplo giochista e questo no e questo si e quant'altro alla fine si è rivelata fedele fedele a Jenny io ancora in realtà mi è venuto il dubbio se Patrizia si è resa ben conto che in realtà è stato Ciro e quindi in qualche modo Jenny a provocare la morte del suo amato Pietro Savastano me lo domando se questa cosa è chiara in realtà avrei dovuto rivedere la stagione prima di vedere questa terza avrei dovuto rivedere la seconda prima di rivedere questa terza purtroppo non l'ho fatto e un po' me ne pento onestamente però è andata così che devo fare ma in realtà Gomorra a parte per alcuni dettagli che sono importanti è talmente epica che non non stai più nella pelle nel vedere come andrà avanti forse più che rivederla in realtà dovrei rivederla Gomorra perché dovrei rivederla non sono non so non so sono sono dubbioso non mi è molto chiaro se in realtà tendenzialmente questa serie sia più bella da rivedere o più bella da vedere la prima volta probabilmente la seconda probabilmente la seconda però non lo so sono indeciso comunque sia torniamo al discorso di Patrizia grande Patrizia grandissima Patrizia assolutamente appassionante finalmente una stramaledettissima non protagonista ma personaggio secondario femminile assolutamente efficace secondo me assolutamente efficace Patrizia Santoro interpretata da Cristiana Dell'Anna che mi è piaciuta tantissimo mi è piaciuta tantissimo oltre ad essere una bellissima donna ci mancherebbe mi è piaciuta tantissimo e mi ha dato la possibilità finalmente di levarmi dalle scatole quella stramaledetta Chanel che detestavo sempre detestato grandissima interpreta anche lei ci mancherebbe però andiamo avanti nel senso è tempo dei giovani è tempo del ricambio le vecchie carriate di cadono al fine di questa stagione fondamentalmente rimangono soltanto i giovani e i giovanissimi giovani e i giovanissimi che a questo punto sono i padroni di tutto fondamentalmente cosa succederà nella prossima stagione? buona domanda non ne ho più padrita idea posso immaginarmi che in realtà ci siano sempre le stesse dinamiche posso immaginarmi che sangue blu ambisca sempre di più a avere o comunque i suoi consiglieri lo portino a volere sempre di più rispetto a quello che ha posso immaginarmi difficoltà forse col personaggio di Azzura interpretata da Ivana Lotito che mi ha regalato un'ottima moglie tormentata ma neanche tormentata in realtà in difficoltà è arrabbiata arrabbiatissima più che tormentata molto più arrabbiata che tormentata moglie del protagonista sarà il buon Jenny e poi che cosa? cosa succederà? buona domanda non lo so però al termine della seconda stagione volevo che la storia si concludesse così adesso invece non voglio che si concluda adesso voglio continuare a vedere è un momento diverso della mia vita come ho detto è il 3 maggio 2020 rispetto a quando vedi la seconda stagione è passato tanto tempo ho visto tante cose ho cambiato forse apprezzamenti verso alcune cose che prima detestavo e viceversa altre invece adesso mi piacciono di meno però Gomorra in qualche modo mi è sempre piaciuta mi è sempre piaciuta e siccome dopo aver visto questa stagione che in realtà potrebbe essere perfettamente conclusiva perché in realtà non ce n'è bisogno di una prosecuzione però l'hanno fatta e sono contento che l'abbiano fatta sono contento di avere la possibilità di vedere come proseguirà la storia spero che prosegua allo stesso livello di questa stagione ma tendenzialmente con Gomorra si va sempre sul sicuro e si può stare senza pensieri quindi per chi ancora non l'aveste visto guardatevi a 3 stagioni di Gomorra per chi ancora non conoscesse Gomorra recuperatevi questa che forse è la più famosa serie italiana degli ultimi anni e forse in assoluto una delle migliori serie che abbiamo mai fatto che prende tanto all'estero e probabilmente un motivo ci sarà speriamo che il suo livello sia sempre questo ma onestamente nulla mi fa pensare che possa essere meno bella e meno affascinante e continuarne la visione nel tempo che verrà non vedo l'ora di vedere appunto la prossima stagione non vedo l'ora di vedere il film e niente fondamentalmente è un pollice in su guardatela guardatela e via grazie a tutti